Sono stati fissati per giovedì prossimo, 19 novembre, gli interrogatori di garanzia per l'ex vice sindaco dell'Aquila Roberto Riga e per l'imprenditore Massimo Mancini, vice presidente dell'Aquila Calcio, agli arresti domiciliari nell'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila su presunte mazzette nella ricostruzione post-sisma. La nuova indagine coinvolge anche altre quattro persone eccellenti, l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, all'epoca dei fatti titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, indagato a piede libero per abuso di ufficio in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del Comune dell'Aquila Vittorio Fabrizi. Altri due imprenditori sono stati interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica, si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Le indagini ruotano intorno all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione del complesso dell'opera salesiana Don Bosco, un affare da 28,5 milioni di euro, per il quale Riga si sarebbe speso per favorire la ditta Mancini. L'indagine parla di un giro di prestiti e mazzette e dell'acquisto di otto auto di lusso, tra le accuse che gli vengono addebitate anche quella di aver acquistato una casa presa poi in affitto da Mancini a un canone più che doppio rispetto a quello di mercato, e l'acquisto di un auto di lusso attraverso un assegno considerato pure questo corruttivo di un altro imprenditore che aveva numerose commesse. Riga era stato cacciato dall'aggiunta comunale nel gennaio del 2014, in contemporanea con le sue dimissioni, dopo essere stato indagato a piede libero nell'inchiesta su tangenti nei puntellamenti post-sisma d'out to death. Riga e Mancini vengono rispettivamente ritenuti responsabili del reato di corruzione e di concorso. Riga e Mancini